Sì, molto velocemente Presidente, la ringrazio. No, ma è solo per fare su questo specifico ordine del giorno una puntualizzazione. Rispetto al primo punto, credo che mai come prima un'amministrazione abbia curato l'incremento di personale oltretutto specializzato per poter far fronte a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione. E sul secondo punto, direi che bastava leggere il contenuto del primo emendamento di Commissione che andiamo a discutere successivamente, che prevede proprio che il rilascio e rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, concessioni, segnalazioni, certificazioni di inizio di attività scia unico o condizionale inerente a attività commerciali o produttive, nonché la permanenza in esercizio sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento e del riversamento dei tributi locali da parte, mi scuso per la velocità, ma è un argomento che riprenderemo dopo, quindi lo andiamo poi a discutere, ma esattamente quello che viene chiesto nell'ordine del giorno e che quindi ritengo sia assolutamente superfluo. Grazie.